Siamo nella categoria Elite 71 kg, chi vince oggi porta a casa il pass per la finale di domani, sempre qua, siamo nel primo round, siamo nell'HT, bene, bene adesso Perino e Leonardo della San Giorgio, è partito molto forte, un biglietto per la finale l'abbiamo staccato, è stato Piangerelli e Leonardo, quindi chi vince il match oggi se lo troverà domani in finale. Torrentino e Riccardo della Ascoli, Ascoli, Boxe, Canotta Rosso, Perino e Leonardo della San Giorgio. Sono partiti fortissimi i ragazzi, adesso bene Perino, tutti i due in guardia ortodossa. Troppo attenzione, testa ragazzi, pericolosa. Grazie mille, grazie mille. Colpi sotto di Fiorentino, Perini lo porta all'angolo, ancora Fiorentino, bene la scarica, niente, non è partita la scarica di Perini e Leonardo, adesso bene sotto, lavora bene sotto Riccardo, si deve coprire un po' di più, guardia un po' troppo di bassa, attenzione, la testa, non abbassare la testa, Riccardo. Bene, bene adesso Leonardo, ancora Leonardo, tocca Leonardo all'angolo, all'angolo Fiorentino. Riccardo, riscade il primo tempo di questa ultima battaglia qua. Siamo arrivati al secondo round, Fiorentino e Riccardo della Ascoli Box, sette vittorie, sette sconfitte e due incontri pari. Era il 24 ottobre, ad Ascoli Piceno ha vinto il match. Mentre Perini e Leonardo dalla San Giorgio, sei vittorie e quattro sconfitte e due incontri pari. Era il 30 settembre, Porto Santelpidio ha impattato il suo match. Non gli dà il tempo Leonardo a fare la boxe che vorrebbe fare Riccardo, lo incalza, lo incalza sempre. Cerca di portare le corde, è venuto bene via il Torino Leonardo. Riccardo, adesso cerca di portare alle corde. E' un messo ancora buono, buono col destro di Perini e Leonardo. Perimisura, 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 perichino Riccardo. 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 Riccardo porta l'angolo bene quella montante per il primo Leonardo. Riccardo. E così scade anche questo secondo tempo. Abbiamo visto un terzo tempo, vediamo che cosa succede in questo terzo tempo, si è un po' più dinamico, adesso è partito incazzato dal suo coach Fiorentino Riccardo, il tempo di intervento, ma la città si appoggia dei colpi sotto sopra Fiorentino Riccardo, bene con la sinistra di Leonardo, ancora bene Leonardo, colpi buoni di Leonardo, fuori misura Riccardo. E chi vince sarà la finale con domani sera qua, contro il vincitore di prima, è stato Piangerelli Leonardo, in categoria 71 kg, campionati youth regionali, sta rifiatando, sta rifiatando Fiorentino Riccardo con la braccia, molto probabilmente in assidolattico, vado bocca aperta a Leonardo, un po' più sotto, sopra. di Riccardo, viene adesso Leonardo che lo porta alle corde, adesso lì all'angolo, all'angolo di mattino Riccardo si è invertito, si è invertito alla situazione. Corri misura Leonardo, bene adesso Leonardo, siamo stanchissimi, i ragazzi d'altronde siamo al terzo e l'ultimo tempo di questa battaglia, sono arrivati alle fasi finali, gli ultimi dieci secondi. E' finito. E' finito. E' pronto. Qualifica. Qualifica. A rato blu, Perini Leonardo. Perini Leonardo porta a casa il match, ma bravo bravo Fiorentino Riccardo d'altronde, bisogna lasciare un vicitore, i giudici hanno optato per Perini Leonardo. Perini Leonardo. Perini Leonardo.